Renato Perez, stessa domanda fatta ai tuoi compagni di reparto, bisogna fare gol, bisogna tornare a fare gol, cosa possiamo inventarci? Inventarci niente, non si inventa niente, bisogna lavorare come stiamo facendo e poi il lavoro paga, purtroppo è un periodo abbastanza lungo e non si fa gol, quindi niente. La fiducia però c'è sempre, così come la speranza di restare nel lotto delle migliori? Sì, speranza, fiducia, poi alla fine siamo tutti là ancora, quindi il cammino è ancora lungo, mancano sette giornate, è importante essere tutti uniti e poi alla fine si trarano. Arriva la Nocerina, l'andata finì con una beffa atroce, c'è in voi nel gruppo la voglia di fare uno scherzetto a una delle corazzate del campionato? Bisogna per forza andare lì con la mentalità di vincere perché sennò poi si fa dura, quindi l'obiettivo è vincere e ributtarci nel calderone, nella mischia fino alla fine, non sarà facile però sarà questa la mentalità.